Analisi tecnica e Turbo 24, salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio farvi vedere come gestire le posizioni attraverso l'analisi tecnica che andiamo ad applicare sulla price action dei grafici e quindi come andare a, per esempio, aprire un'operazione nel momento in cui una candela rompe una neckline, un livello di prezzo, un supporto, una resistenza e come andare a gestire la posizione chiudendola con uno stop loss che non è il livello di knockout ma che è uno stop loss diverso dal livello del knockout che magari potrebbe avvenire prima del knockout e un take profit ovvero quando l'operazione si dovrà chiudere ed andare in profitto, questo ci permette di gestire le operazioni in maniera anche più serena senza dover essere lì sempre davanti ai grafici a capire e vedere se l'operazione deve essere chiusa, deve rimanere aperta eccetera e prendere altre decisioni. Andiamo subito ad entrare nel pannello del Turbo 24 a vedere come si impostano questi tipi di ordine. Siamo passati qua sulla nostra piattaforma e andiamo un attimo su FX, quindi sul valutario, andiamo a vedere qualche, sì potrebbe essere Audi USD e vi faccio vedere questo, andiamocelo ad aprire su uno spazio di lavoro così ci andiamo a lavorare con il grafico più grande e 30 minuti, aspettate che metto il giornaliero, non opero con time frame così bassi, ora che cosa notiamo qui? Notiamo che il prezzo ha fondamentalmente lateralizzato per un po' di tempo, ha avuto questo primo impulso ribassista sul quale ha rimbalzato e ha creato un secondo impulso ribassista e qui adesso vedete in una fase di ritracciamento. Ora è piuttosto interessante la fase che sta creando perché qui ci permette di agire in due modalità, a seconda che noi siamo trader di controtendenza o trader che tendono a seguire la tendenza del mercato. Beh la tendenza del mercato qui è una tendenza ribassista, il mercato ha fatto due impulsi ribassisti, ve li ho appena disegnati, guardate ve li faccio vedere meglio qua con AB, questa è la prima gamba, B, C è il ritracciamento della gamba B e poi abbiamo C, D che crea dei nuovi minimi che vanno a rompere i minimi precedenti e completa quello che si chiama un ABCD pattern. Viceversa, per chi invece è un trader che va a caccia della controtendenza e quindi dell'inversione di un movimento tendenziale del grafico, qui si sta per formare un trend interessante, scusate un pattern interessante, un testa e spalle di inversione della tendenza ribassista. Guardate ve lo disegno e ve lo faccio vedere meglio. Qui abbiamo il primo impulso ribassista, un ritracciamento, abbiamo vedete una gamba che è più profonda ed un nuovo ritracciamento, questa parte qui, che cosa è? È un testa e spalle, guardate questa è la prima spalla, questa è la testa e questa è la seconda spalla che attualmente è in formazione, quindi non è ancora formata e ancora potrebbe doversi sviluppare, però questa potrebbe essere la neckline del nostro testa e spalle di inversione. Quindi adesso qui vi farò vedere oggi come impostare, sia che siate, quindi due scenari, primo scenario, controtendenza, che utilizza il testa e spalle, secondo scenario di prosecuzione del trend che usa una continuazione dell'ABCD pattern che si è creato. Benissimo, partiamo con la controtendenza, vi faccio vedere come andare a posizionare grafici, scusate, ordini che si chiamano ordini stop. Se questo è un testa e spalle, come ci siamo detti, e qui guardate potrei farvi vedere, andare a segnare questo, eccolo qui, questa neckline qua, dove questa è la prima spalla, questa è la testa e questa è la seconda spalla, è un esempio ragazzi perché la seconda spalla ancora non si è formata veramente, è solo per farvelo vedere. Diciamo che io voglio entrare nel caso in cui il prezzo vada a rompere questa neckline, quindi deve rompere, potrei mettere qua il livello questo, vedete il livello di prezzo a 0,7031 o magari meglio ancora stare sopra questi minimi, quindi diciamo che vorrei rientrare se il prezzo dovesse arrivare a 0,7071. Quindi voglio entrare long in questo caso e devo andare a prendermi subito il livello di knockout, essendo un'operazione long io voglio che cosa? Mettere il knockout sotto. Il knockout adesso mi interessa meno perché poi andremo ad impostare, vi faccio vedere anche come impostare uno stop loss. In un testa e spalle diciamo che una regola da libro, non parlo qui di strategie, ma come regola da libro si mette sotto ai minimi della candela che ha rotto. Diciamo di voler mettere un knockout sotto i minimi della spalla che si sta formando, quindi questo è il nostro knockout. Abbiamo detto che io voglio entrare intorno ai 0,7071, quindi qua devo mettere, devo aprire il calculator, ve lo ricordate, no? Quindi qual è il livello? Abbiamo detto 0,7071. Questo è il livello di prezzo a cui voglio entrare, ma io voglio andare a impostare l'operazione sul prezzo del turbo stimato, no? Quindi il prezzo è 2,29. Lo copio, guardate qua, quindi l'ordine limit è un ordine che inizierà e viene eseguito se il prezzo specificato è a quel valore o è migliore, ma io voglio andare a far eseguire l'ordine solo se rompe il prezzo di prima. Quindi vado a mettere sul mio ordine di attivazione stop il valore che ho calcolato prima, faccio clic su anteprima dell'ordine e in questo modo inserisco l'ordine a mercato che si apre solo nel caso in cui arrivo il prezzo a quel livello di prezzo. Vi faccio vedere come impostare invece un, andiamo a vedere se non ho posizioni aperte, facciamo un attimo una cosa, andiamo su criptovalute, andiamo su Ethereum, andiamo ad aggiungere allo spazio di lavoro il nostro Ethereum qua e andiamo a lavorare, stiamo sul giornaliero. Ok, benissimo, vado un secondo ad inserire un ordine short, quindi un ordine short con un knockout che per ora metto qui sopra, quindi molto in alto. Diciamo che voglio entrare a mercato, ok? Voglio solo farvi vedere come si può entrare a mercato, allora, entrata a mercato, quindi qua l'attuale, mettiamo 100, anteprima dell'ordine, ok, ordine eseguito, ecco qui la mia posizione aperta, eccolo qui, e qui posso mettere, diciamo, il mio classico stop loss, che è diverso, in questo caso, dal knockout. Questo è il knockout e qualsiasi cosa succeda io uscirò a questo prezzo, però diciamo che se io entro short qui, voglio andare a darmi come possibilità massima di uscita questo prezzo, quindi voglio andare ad inserire il mio stop loss. Per far questo vado a mettere un sell stop, e questa volta metto stop a mercato, e come livello metto, fatemi vedere qui le posizioni, come livello qui metto, quindi metto sell, vado su tipo di ordine, stop ordine a mercato, ho i miei 100 contratti, mi calcolo, abbiamo detto che io voglio uscire intorno ai 2000, diciamo intorno ai 2030, quindi apro il calculator, qua metto 2030, e questo è il mio prezzo, questo è il prezzo di attivazione, faccio clic su anteprima e inserisco l'ordine, l'ordine, eccolo qui, vedete che ho un ordine short di Ethereum, con il livello di knockout a 2220 e 78, vende 100 contratti, con un ordine a mercato che ho impostato al valore, che ho impostato al valore di 2030, o quello che era insomma. Bene ragazzi, con queste funzionalità possiamo andare a gestire stop loss e take profit delle nostre operazioni, che è qualcosa di assolutamente obbligatorio nel caso in cui facciamo analisi tecnica, perché abbiamo sempre dei livelli di ingresso e dei livelli di uscita in take profit o in stop loss molto precisi, che fanno parte della nostra strategia e quindi ci tenevo assolutamente a farveli vedere all'interno di questa piattaforma. Spero che sia tutto quanto chiaro, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!